Mmm, something fucking up. Time for a miscatore. Oh, is that right? Oh, no. Kok. Non mi devo fare. Ok. E' questa è l'ambito. E' questo qui è il mio recito. E' questo qui è il mio recito. Perfect. использовать. Hola. Ora. Ho lì. Ok, cambia le facts. Peki, abbiamo fatto che c'è un bel bambino. Certamente, ce ne vediamoci. Grazie.